Sanità e territorio, oggi si parla del futuro del settore da nord a sud. Quali le principali sfide da affrontare e le leve per una sanità equa e sostenibile? Sì, oggi è un convegno particolarmente interessante al quale teniamo molto per ribadire quello che è il nostro progetto sulla sanità che io definisco del terzo millennio, una sanità più equa su tutto il territorio nazionale, non solo sud e nord ma anche grandi città e piccoli centri, aree che si trovano al centro della nostra bellissima nazione che sono più difficili da raggiungere. Noi abbiamo a cuore da una parte i cittadini per i quali vogliamo una sanità migliore e puntiamo sulla medicina territoriale, sui fondi del PNRR e sulla telemedicina. Dall'altra parte abbiamo a cuore gli operatori sanitari, che è giusto che abbiano un aumento in quello che è il loro stipendio e che abbiano anche delle migliori condizioni di lavoro. Quindi questa è la sfida per il futuro, una sfida dalla quale però non possiamo non dimenticare una visione che è quella One Health, che mette insieme la salute dell'uomo con la salute dell'animale, con la salute dell'ecosistema e non può prescindere in una nazione longeva come la nostra dalla prevenzione. Investire in prevenzione è la cosa migliore, credo che oggi uno Stato possa fare quando si parla di salute e abbiamo anche un occhio di riguardo perché è un problema importante per la salute mentale. Ministro, le disparità tra regioni e regioni fra nord e sud ma anche all'interno di ASL pure al nord sono enormi per quel che riguarda l'offerta di salute ai nostri pazienti. Il 60% degli ospedali italiani ha più di 70 anni, abbiamo visto purtroppo la tragedia di Tivoli e ci sono 10 miliardi che non sono stati spesi dal 1988, c'è quasi 2 miliardi stanziati dal PNRR e dai fondi vostri del Ministero. Che cosa ci vuole per far avviare questi lavori? Io sono stato il primo nell'aprile scorso a dire che c'erano quasi 11 miliardi di euro a disposizione e non spesi come ha detto giustamente lei dal 1988, noi siamo a disposizione delle regioni che vogliono presentare questi piani per avere la possibilità di usufruire di questi fondi e stiamo anche cercando di rendere la parte nostra burocraticamente più snella, questo passa per un accordo diretto tra noi e le regioni in modo tale che questi fondi possano essere messi a disposizione dei territori per avere ospedali più moderni e più sicuri per i cittadini. Bisognerebbe attuare una sorta di progetto morandi, nel senso si è visto che in due anni è stato ricostruito il ponte, com'è possibile che ospedali non abbiano manutenzione per decenni? C'è un problema di responsabilità, di paura della firma? Io credo che è assurdo che nei luoghi dove i cittadini debbano essere curati poi succedano disgrazie come quelle che abbiamo visto di recente, io penso che una sanità moderna non può prescindere da ciò che è basilare, cioè la sicurezza dei luoghi dove si prestano cure, dove si prendono in cura le pazienti e i pazienti, noi su questo ovviamente siamo pronti a fare la nostra parte e a mettere a disposizione la competenza delle nostre varie direzioni generali. Però è chiaro che i fondi che sono lì non spesi dal 1988, quindi da 35 anni, vanno richiesti, le regioni devono richiedere e noi le erogheremo nei tempi più rapidi possibili. Il male maggiore da eliminare nella sanità del futuro, Ministro? Le diseguaglianze che ci sono nell'offerta all'interno della nostra nazione, questo è il mare maggiore e poi soprattutto avere un focus e combattere le liste di attesa che non si combattono solamente con più fondi come abbiamo cercato di mettere in questa finanziaria, ma si combattono anche portando avanti il concetto di appropriatezza. Gli esami vanno fatti nei tempi necessari e chi ne ha veramente bisogno è anche quello di dare maggiore certezza ai medici che sono spaventati dalle tante ingiuste cause che subiscono e che riporta alla cosiddetta medicina difensiva che pesa moltissimo sui fondi del sistema sanitario nazionale.